Penso che quello della malattia cronica sia un problema rilevante e non lo è solo dal punto di vista dei costi sociali ed economici che procura, ma soprattutto pone alle istituzioni l'esigenza di affermare una politica che sia in grado di aggredire questo tema e di farlo diventare un problema sul quale ovviamente l'Unione Europea può esprimere una maggiore forza creando le condizioni perché ad esempio ciò che si fa nei diversi paesi, quello che viene chiamato sostanzialmente buona pratica, possa essere diffusa il più rapidamente possibile. Io credo che ci siano le condizioni perché è un tema così rilevante che colpisce buona parte della cittadinanza europea, particolarmente la cittadinanza delle persone anziane, sia indispensabile procedere anche identificando un nuovo intervento con una direttiva europea che riesca ad affrontare seriamente in profondità questo problema.